Calcio di punizione battuto sulla sinistra per Vitale che vede subito in appoggio proprio della Rocca che arriva quasi sul fondo, può mettere al centro, al limite dell'area, il destro al volo, viene calciato male però da Busellato ci sembra, colpito male la buona possibilità per la formazione allenata da, chiedo scusa, da, andiamo avanti, per la formazione salernitana e la buona possibilità da limite dell'area, il destro schiacciato a terra. Pallone che è finito alto sulla traversa però senza alcun pericolo per Cicizola che ha solo guardato il pallone uscire.